Sono venuto qua più che altro perché avevo bisogno di guardare alcune situazioni di settore giovanile, da dove attingeremo quest'anno per quanto riguarda una parte della Rosa e quindi volevo avere le idee un po' più chiare per quello che è il loro livello attuale. È il potenziale che questi ragazzi del settore giovanile che stanno facendo molto bene il potenziale su cui lavorare. Da lì chiaramente abbiamo fatto un po' di chiacchiere col Presidente, con l'Avvocato Ferraro, con il Direttore Sportivo. Stiamo iniziando a mettere le basi per una nuova squadra e per far sì che ci sia una buona annata.